ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video ho deciso di fare questo video proprio in un momento in cui sto avendo un attacco di panico non so perché come potete vedere respiro a fatica però è soltanto una sensazione perché non sto soffocando c'è una pressione qui come se non potessi respirare però soltanto una sensazione perché in realtà non c'è niente di fisico se io adesso vado al pronto soccorso non mi troveranno nulla ragazzi l'attacco di panico è questo